Sì, grazie a tutti voi. Questa non è che l'inizio di una storia, è una storia importante perché senza passare di ieri non saremo qua a progettare il percorso del 2026, ma è solo l'inizio. E allora io voglio dire queste cose. La prima, il merito di tutti, non sbagliamoci, io sono il primo a non cercare di prendere merito o fare un discorso di parte politica. Quindi che se deve dividere, deve dividersi su alcune cose perché se no non sarebbe in grado di rappresentare un diverso modo di vedere, diversi modi di vedere la società, di mancare la tua città, però tendenzialmente deve cercare di non dividersi su opportunità. La prima cosa è questa, per cui il merito va a tutti noi, certamente anche a Miro Anza, ma ve lo dico anche perché dai quell'occhio che ho avuto con il Ciro, in particolare con il Presidente Patti, perché poi veramente ne ha detto dopo, non sono stati eletti, loro sono rimasti molto impressionanti dal 87% di consenso milanese. Il processo milanese significa due cose, la prima è il trasferimento di Expo, perché mi hanno visto cosa comportano in conferenza.